Berlusconi fa bene ad avere paura del Movimento 5 Stelle perché, ne sa, lui è una testimonianza diretta che dopo vent'anni di attività politica incontrastata e in piena sintonia o quantomeno con la complicità del cosiddetto centro-sinistra, con l'arrivo del Movimento 5 Stelle in Parlamento è accaduto l'impensabile intanto c'è la sua decadenza in virtù dei procedimenti penali di cui è stato oggetto. Fa bene ad avere timore, però lui sa benissimo che siamo persone molto pacifiche e mai abbiamo dato adito a preoccupazioni di questo tipo. Fa bene ad avere timore.